Sono già l'ultima spiaggia, i Dolphins-Falconara che per agguantare i play-off dovrebbero vincere tutte le partite rimanenti. Sabato scorso i Delfini hanno incassato la quarta sconfitta consecutiva a Bolzano contro i Giants. Un match iniziato positivamente per i falconaresi che si portavano in vantaggio 9-6 grazie a una meta del quarterback americano Knoblatch. In apertura di secondo quarto però i Dolphins subivano il ritorno dei Giants i quali andavano a segno con quattro mete, due con Taverna e altrettante con il running back Reggie Green. Chiude il match una meta su corsa dell'altro statunitense dei Dolphins, Cook, fissando il risultato finale sul 34-16 per i Bolzanini. Mi piace sempre giocare qua a Bolzano perché come campo, come ambiente è più vicino come squadra. È stato bellissimo giocare contro la mia ex squadra anche perché l'anno scorso i Dolphins erano in Serie A2 e non sono riuscito a incontrarli. È stata una bellissima partita. Oggi speravo di vincere e invece è andata male. Comunque direi un passo in avanti per la nostra difesa sicuramente. Per l'attacco un passo indietro però già è qualcosa in più. Credo che ci sia stato indubbiamente un miglioramento del gioco di squadra e sicuramente in queste ultime settimane si è curata più la difesa. C'è anche chi ci ha messo una mano in più tra gli allenatori e infatti si è visto. Questa volta abbiamo concesso veramente molto di meno delle altre partite. Domenica prossima i Dolphins dunque ospiteranno lo stadio Roccheggiani di Falconara. I Briganti Napoli, squadra che ha lo stesso record negativo dei Marchigiani. Zero vittorie e quattro sconfitte. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 17. 17.